ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di mite misteri scp oggi parliamo della scp 2419 chiamato anche i uomini ridenti class dell'oggetto eoclid foto di unità c circa 1963 poi c'è due specie di contenimento è stato stabilito attorno scp 2419 un perimetro circolare recintato con un raggio di 15 chilometri questo perimetro gestito da ssm beta 7 come proprietà privata una volta al giorno la ssm beta 7 deve accompagnare i tecnici della fondazione la unità c per eseguire la manutenzione di uno dei sei inceneritori devono eseguire un programma di rotazione per garantire che la fornace di ciascun ceneritore venga revisionata una volta alla settimana al di fuori di questa manutenzione ogni fornace deve rimanere accesa e operativa in ogni momento i portali di acce rinforzati sono stati saldati in cima e trescivo e di smaltimento di ciascuno inceneritore questi portali devono rimanere imbullonati e bloccati l'essenza di scp 2419 attino a trovate al di fuori inceneritore dell'unità c devono essere immerse nel calcio estruzzo e spediti in un sito di contenimento indefinito modello dell'unità a b e c descrizione scp 2419 un raffineria e un impianto di smaltimento dei rifiuti situata a 75 chilometri a nord di summer springs colorado usa è stata costruita nel 1954 dalla fondazione allo scopo di gestire l'incenerimento e lo stoccaggio a lungo termine di rifiuti pericolosi un'evacuazione controllata è stata effettuata nel 1975 dopo che iniziato a presentare diverse anomalie la struttura divisa in tre unità unità a era responsabile dello stoccaggio a lungo termine di rifiuti anomali attraverso un deposito geologico profondo unità b riceveva le spedizioni di rifiuti e li elaborava l'unità c smaltiva rifiuti non anomali tramite incenerimento le stanze di scp 2419 attino a si presentano come entità umane che si manifestano all'interno degli inceneritori dell'unità c esibiscono capacità generativa anomale e sono incapaci di morire sebbene il genere testino tende di uscire dagli inceneritori attraverso il scivo e di smaltimento il calore proveniente dalla fornace di ciascun ceneritore è sufficiente per fermarli prima che possano compiere progressi significativi le stanze di scp 2419 attino a non comunicano e mancano di alcun senso di autoconservazione anche se sembra non avere alcun interesse reciproco mostrano un estremo stilità nei confronti di qualsiasi non istanza sepiente e questa è la storia scp 2419 se il video vi è piaciuto come sempre vi lasciate un bel mi piace per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima